Ma tu non sei Antonio Loconti? Tino, è ovvio che non sei Antonio Loconti, il direttore ci ha mandato qui in missione, siamo a Monopoli, per raccontarvi quella che è una vera e propria impresa. Infatti oggi il barone Vita Antonio Colucci, imprenditore monopolitano e presidente di Plastic Puglia, si cimenterà, indovini un po'? Non ho assolutamente idea, guarda. Siamo al mare, quindi ovviamente in una traversata di ben 4 km, indovina l'età? 83 anni. Ad 83 anni. Barone, da dove nasce l'idea di questa impresa? Intanto, grazie e benvenuto al quotidiano italiano. Questa impresa nasce in verità da tanti anni, perché sono stato sempre appassionato del nuoto e diciamo che quasi tutti gli anni io ho eseguito sempre il maratone di nuoto. Quest'anno sarà un'impresa di circa, diciamo, oltre 4 km, che parte, come sapete, alle 10 e rientra verso le 11 e mezzo. E questa impresa è dedicata innanzitutto, diciamo, ai giovani, alla marina, ma vuole essere anche un'ispirazione per i ragazzi a fare lo sport, perché lo sport è salute, lo sport è vita, quindi è molto importante che i ragazzi facciano questo. Se loro fanno questo, io credo che conseguiranno gli stessi risultati di salute che ho conseguito io fino adesso che ne ho 83 anni. Il mare è spettacolare. Voglio ringraziare tutti i colori che mi hanno assistito, voglio ringraziare il sindaco che sta qui presente, lui non poteva mancare, poi c'è l'assessore, poi tutti quelli che stanno qui, l'assessore Giaica, e tutti, diciamo, i dipendenti, i miei familiari, a loro voglio ringraziare. È un ringraziamento particolare per chi mi ha assistito durante la maratona. La civica amministrazione al grande ufficiale della Repubblica Italiana di Antonio Producci, il protagonista della maratona di nuoto, svoltasi sabato 11 settembre 2021, eccezionale impresa che promuove la pratica sportiva. Grazie, Barone. Maratona di nuoto, partenza arriva a Cala Paradiso, di cui percorso i 4 chilometri, all'atleta Vita Antonio Producci, con viva considerazione per la sua eccezionale impresa. Firmata la Presidente regionale del Comitato Puglia, Xen, Domenico Marconi. Grazie, grazie. Tino, il Barone ce l'ha fatta, ha percorso più di 4 chilometri in meno tempo. Noi non ce l'abbiamo mai fatta. Assolutamente no. Sai che ti dico? No. Io vado ad allenarmi. Ciao, Tino. Ottima idea.